Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina della cronaca. È stato identificato dai genitori l'uomo ritrovato cadavere venerdì scorso sulla spiaggia di Porto Recanati. Si tratta di un quarantenne di penna billi, comune passato da qualche anno in provincia di Rimini, che si era allontanato da casa venerdì mattina. I familiari avevano dato subito l'allarme. Il riconoscimento è avvenuto nell'obitorio di Civitanova Marche, disposta per oggi l'autopsia per accertare le cause della morte, che potrebbe essere sopraggiunta per annegamento. L'uomo era stato visto entrare in acqua attorno alle 14 di sabato all'altezza di Numana, località dove era arrivato con la sua auto. Qualche ora dopo il corpo era stato trascinato a riva da una mareggiata sino a Porto Recanati. Ritira la querele e perdona il piromane delle chiese che per ben cinque volte lo ha minacciato di morte lasciandogli i biglietti in parrocchia ed inviando lettere anonime per posta. Gli episodi risalgono al 2017, ma Donaldo Pieroni, parroco a Camerano, ha comunicato questa decisione durante il processo a carico del sessantenne Giuseppe Eusepi di Chiaravalle, accusato di aver appiccato vari roghi nel corso di un periodo di tre mesi. Quest'uomo mi invia lettere di scuse continue, ha detto il parroco, è pentito, mi invia Santini, mi chiede sempre scusa. Chiuso il dibattimento, è stata fissata l'udienza per la discussione e sentenza al prossimo 13 dicembre. Ed ora cambiamo argomento. Una riforma epocale, la definita il presidente della regione Acquaroli è quella approvata ieri, che ridisegna un nuovo assetto organizzativo dell'ente. Sentiamo i dettagli nel servizio di Manolita Scocco. Sei dipartimenti e l'ufficio speciale per la ricostruzione con competenze ridefinite. La Giunta regionale ha deliberato ieri per la Regione Marche un nuovo assetto organizzativo che dovrà garantire il perseguimento degli obiettivi di governo nei prossimi anni. I sei dipartimenti sono avvocatura regionale e attività legislativa, che meritano una loro autonoma collocazione per garantirne autonomia e indipendenza come prevede la legge. Programmazione integrata, Unione Europea e risorse finanziarie, umane e strumentali, infrastrutture, territorio e protezione civile, politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione, salute, sviluppo economico. Ridefinito il ruolo dell'ufficio speciale per la ricostruzione. Il gabinetto del presidente della Giunta non costituirà una struttura dirigenziale, ma è chiamato a svolgere specifici compiti assegnati dal presidente oltre a quelli di competenza. La segreteria generale è chiamata ad assicurare l'esercizio organico integrato delle funzioni di competenza di tutte le strutture della Giunta regionale. Una riforma epocale per rendere l'apparato più semplice, ha commentato Francesco Acquaroli. Linea dura contro vandali ed imbrattatori che soprattutto nei fini settimana si divertono a danneggiare scuole e spazi pubblici. L'appena confermata sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato un'ordinanza con la quale, con decorrenze immediate fino al superamento delle situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro e della vivibilità urbana, è imposto il divieto di bivaccare, sostare e intrattenersi all'interno degli androni, delle pertinenze, dei giardini interni, di scale, terrazzi e soppalchi, degli edifici scolastici negli orari di chiusura degli stessi. Una decisione presa dopo i recenti fatti alla scuola Luzio, ai trasgressori, multe sino a 500 euro. E veniamo all'aggiornamento quotidiano sulla pandemia. La provincia di Pesaro Urbino, nell'ultime 24 ore, ad essere quella maggiormente colpita dal Covid, con 24 nuovi casi su 54 complessivi. 15 si sono registrati nel Lanconetano, 7 a Fermo, 4 a Macerata, nessuno ad Ascoli Piceno. Scende ancora il tasso di incidenza accumulativo su 100 mila abitanti, ora 28,30. Stazionare invece il dato dei ricoverati complessivi, che sono 56, di cui 12 in terapia intensiva, e 17 nelle aree semi-intensive. Sei classi intanto in quarantena all'Istituto socio-psicopedagogico Leopardi di Recanati, dove un'insegnante è risultata positiva al coronavirus. Riguardo allo screening nelle scuole, un solo tampone positivo su 715 effettuati. Le piccole imprese della Confartigianato, ed in particolare gli impiantisti, chiedono una maggiore tutela del loro lavoro nei confronti delle cosiddette multi-utility, che esercitano in alcuni casi abusi di posizione dominante. Sono 15 mila le piccole realtà del sistema casa, che chiedono quindi una modifica ad una legge regionale del 2015, che disciplina esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici. Sentiamo. La situazione è una situazione estremamente critica, in questo momento è importante, perché siamo nel momento dell'accensione degli impianti, per cui siamo tenuti a dover fare le verifiche del caso, nell'anno in cui poi si concentrano in massima parte la certificazione degli impianti tramite il cosiddetto, tra virgolette, bollino. Per noi è importante avere queste occasioni di incontro, per andare ad ottimizzare una legge regionale, che è nata già bene qualche anno fa, e adesso, visto il mutato contesto tecnico, normativo, anche visti i problemi tipici del momento, insomma, è importante per noi avere queste occasioni di confronto, per poter portare le aziende, che sono un po' l'eccellenza del territorio, a cercare di ottimizzare questa legge, per portare il massimo vantaggio al cittadino, in termini di sicurezza e di efficienza energetica. Il lavoro muta per diversi fattori, sono mutate un po' le tecnologie in maniera importante. Il comparto e il contesto energetico ha ormai una valenza importante anche sulle tasche dei cittadini, perché stiamo notando tutti quanti come il tema della sicurezza sia fondamentale, ma soprattutto anche il tema economico, del costo della gestione degli impianti, con l'aumento importante dell'energia che stiamo subendo in questo periodo. In più ricordiamoci un momento veramente importante, per cui gli ecobonus e super ecobonus che stanno arrivando stanno modificando in maniera veramente devastante le tecnologie che installiamo all'interno delle abitazioni e quindi anche come dovranno essere gestiti i tasti unici regionali, i marchi di impianti termici e come dovranno essere portati avanti le manutenzioni. È il segnale per abbattere le posizioni dominanti delle grandi network oggi di produzione, derogazione e commercializzazione di utenze e quindi dei servizi primari. Serve a tutelare con un marchio di certificazione che passa attraverso una posizione di ufficio presso ogni comune, dei coloro che effettivamente come artigiani, impiantisti, svolgono questa attività da sempre e che quindi sono coloro che a livello di lavoro rappresentano l'origine, il doc di questa situazione e ovviamente sono la parte debole in questo momento per la forza d'urto che ha queste grandi network. Ovviamente non siamo per eliminare la concorrenza, non è possibile ed è giusto che ci sia concorrenza ma proprio nell'ambito della concorrenza ci deve essere anche la tutela di chi dà dell'originalità e della funzionalità e anche quindi della capacità della propria maestranza il punto di forza. In questo caso gli artigiani marchigiani coloro che lavorano in questo settore devono essere in questo momento estremamente tutelati. Il 46% dei marchigiani è sovrappeso e addirittura un 10% ha raggiunto livelli di obesità numeri sui quali non hanno influito le restrizioni del Covid dato che si tratta delle stesse percentuali del periodo pre-pandemia stando all'analisi di col diretti Marche sui dati Istat in occasione dell'Obesity Day 2021. La media delle Marche è superiore sia alle altre regioni del centro che del nord Italia. Non va meglio per i più piccoli l'Istituto Superiore di Sanità ha calcolato che più del 30% dei bambini marchigiani tra gli 8 e 9 anni ha problemi di peso il 25% non svolge alcuna attività fisica ed un 8% salta la colazione mattutina. Partendo da questi dati la col diretti donne impresa ha promosso il progetto di educazione alimentare nelle scuole con lezioni in programma nelle fattorie didattiche e nei laboratori del gusto organizzati nelle aziende agricole ed in classe. Insediata la nuova giunta comunale di Mondolfo dopo il plebiscito che ha portato alla rielezione del sindaco Nicola Barbieri un esecutivo che si fonda sulla continuità ma ci sono comunque delle novità. Vediamo. Il rieletto sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri ha presentato la nuova giunta che lo affiancherà in questo secondo mandato. Squadra vincente non si cambia recita il detto sportivo che sembra calzare a pennello in questo caso visto che il voto plebiscitario che Barbieri ha ricevuto dai suoi concittadini strappando un 85% di preferenze lo ha indirizzato a confermare quattro assessori sui cinque della passata legislatura. Carlo Di Tarlevi che oltre al bilancio ha anche il ruolo di vice sindaco Davide Caporaletti che continuerà ad occuparsi di turismo ed eventi e come Filomena Tiritiello che sarà dedicata ai lavori pubblici e Alice Andreoni che si occuperà di sanità e servizi sociali. La new entry è Raffaele Tinti che si dovrà occupare di viabilità polizia locale demanio e tutela della costa e attività economiche deleghe pesanti per il nuovo innesto considerando il fatto che sono tutte deleghe che ruotano attorno alla vocazione turistica del comune e quindi estremamente strategiche. Il sindaco per lui si è tenuto l'urbanistica e il personale. Sì, oggi abbiamo ufficializzato la nuova giunta quindi una giunta nel segno della continuità perché in questi anni abbiamo avviato tanti progetti che dobbiamo ancora completare quindi serviva continuità c'è anche un nuovo innesto quindi nuove energie rispetto al mandato precedente e poi abbiamo voluto affidare le deleghe a tutti i consiglieri comunali perché è importante avere il contributo di tutti in questi cinque anni per dare maggiore incisività all'azione amministrativa di Farecittà. Nella composizione della nuova giunta oltre a tener conto del numero delle preferenze ha detto il sindaco nella conferenza di presentazione abbiamo voluto valorizzare le esperienze amministrative per dare maggior incisività all'azione amministrativa. Barbieri non ha neanche escluso che negli assessorati ci possano essere degli avvicendamenti futuri con alcuni nuovi eletti che nel frattempo avranno acquisito esperienza della macchina amministrativa in consiglio comunale e quindi possono dare il loro contributo di novità e freschezza. Un'amministrazione comunque molto giovane data la media dell'età di tutto il consiglio e con un equilibrio di genere perfetto tra gli assessori tre uomini e tre donne. Sara Pennoni sarà la presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità. Credito d'imposta sugli investimenti nelle aree colpite dal sisma la regione Marche chiede alla struttura commissariale di rifinanziare la misura. Lo fa attraverso le parole dell'assessore alla ricostruzione Guido Castelli su sollecitazione anche di Confindustria e Ance l'associazione nazionale Costruttori Edili al centro della richiesta allo stato di attuazione dell'autorizzazione della misura agevolativa per le imprese che viene fornita direttamente dalla Commissione Europea. Chiediamo di valutare la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2022 in coerenza con le analoghe misure previste a sostegno del Mezzogiorno. Torna la manovra del bacino in brifero montano del Tronto a sostegno della scuola e della comunità del Piceno un pacchetto dal valore di 165 mila euro con 100 borse di studio. Sentiamo l'intervista con il presidente del BIM Luigi Contisciani. Con il presidente Contisciani alla presentazione del pacchetto scuola si torna al lavoro borse di studio tante iniziative dopo un anno di sosta a causa Covid. Sì senza ombre di dubbio dopo un anno molto difficile in cui non c'è stato permesso di entrare nelle scuole con i nostri progetti riparte per l'undicesimo anno il pacchetto scuola BIM il pacchetto scuola BIM prevede per quest'anno oltre 166 mila euro in cui sono previsti progetti di prevenzione borse di studio e borse di studio per le tesi di laurea e olimpiade dell'inglese. Sì quest'anno naturalmente sono previste 100 borse di studio a favore dei ragazzi delle scuole superiori dal primo al quinto anno sono previste tre premi per le tesi di laurea riguardanti il territorio del BIM Tronto cioè i 17 comuni del territorio viceno sono previsti in pratica tre progetti di prevenzione uno riguardante le scuole medie l'affettività e la sessualità l'altro sulla dislessia che quest'anno prevede anche l'inserimento dell'ultimo anno della scuola materna oltre al primo anno delle scuole elementari e un progetto invece che riguarda la rete museale Picena a cui il BIM ha creato e oggi sono 81 i musei di cui fanno parte del sistema museale Piceno dove vogliamo far conoscere ai nostri giovani naturalmente le bellezze dei nostri musei quindi oltre a questo diamo anche loro la possibilità invece di fare un percorso sensoriale all'interno sia dei musei ma anche nell'aula verde di Castel Trusino con i lungobardi oppure dei percorsi sensoriali all'interno dei propri boschi per far sì che comunque i nostri ragazzi dopo un anno di chiusura stando chiusi nelle case di scuola in date abbiano la possibilità in pratica di vivere il nostro territorio nello stesso tempo di stare all'aperto Il BIM guarda anche tra virgolette all'estero con delle borse di studio verso i ragazzi di italiani in Canada abbiamo lei assentito in conferenza Sì noi tra i vari progetti in pratica abbiamo una nostra comunità che conta diverse migliaia di persone una comunità naturalmente di Ascolani soprattutto di Umito di Acqua Santa Termi che sono là da tantissimi anni a cui comunque annualmente diamo una borsa di studio per i loro figli i loro nipoti per far conoscere e comunque frequentare la lingua italiana e soprattutto per rimanere le tradizioni del nostro territorio con i loro dialetti voglio dire che comunque in questi dieci anni il BIM ha investito oltre un milione e mezzo di euro per il nostro territorio per i nostri giovani e per le nostre famiglie oltre tre milioni di euro per la promozione e gli investimenti in cantina sono i numeri messi a disposizione dall'assessorato all'agricoltura della regione attraverso l'approvazione di alcuni bandi un piano per la ripartenza affidato all'istituto marchigiano di tutela vini e al consorzio vini piceni due progetti per un programma che prevede la partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali campagne di informazione e formazione in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche e della produzione biologica azioni di marketing fino agli investimenti per la costruzione delle infrastrutture vitivinicole finalizzate alla produzione commercializzazione e degustazione dei vini per l'allestimento nei punti vendita aziendali di sale dedicate ai testing e per la creazione di siti internet finalizzati alla vendita delle etichette online i paesi obiettivo per la promozione saranno stati uniti canada giappone cina ed australia il codma di rosciano di fan è stato scelto per una esercitazione nazionale per formare nuovi volontari che affronteranno le situazioni di emergenza 200 partecipanti da tutta italia ma sentiamo lino balestra oltre 200 volontari di protezione civile che lavorano febbrilmente e velocemente squadre che allestiscono un campo tenda montano compound per screening covid mentre altri creano ponti radio di comunicazione con forze dell'ordine e soccorritori e un via vai di mezzi e attrezzature sembra lo scenario di un evento catastrofico ma in realtà è solo un'esercitazione fortunatamente anche quest'anno come ogni anno il Codma di Rosciano è scelto a livello nazionale dall'associazione FIR a cui il gruppo di protezione civile di Fano Cibiclub Mattei è affiliato come campo di addestramento per formare i nuovi volontari che affronteranno situazioni d'emergenza fiore all'occhialo nazionale con la sua colonna mobile il Cibiclub Mattei è stato in prima linea in innumerevoli scenari ultimo dei quali il terremoto del centro Italia e la sua sede è uno scenario naturale su cui addestrarsi Olivia allora il fungo del Codma e il Cibiclub Mattei la protezione civile locale è sempre impegnata anche nel settore della formazione come spesso abbiamo visto sì dici bene il fungo del Codma perché le previsioni erano tutt'altre comunque non cambia nulla perché ci sono esattamente cinque aule delle radiocomunicazioni cucina logistica unità di crisi e segreteria che saranno da domani mattina alle 8 dentro le aule per imparare in pratica sono ragazzi ragazzi nuovi volonterosi che poi andranno a rimpinguare la colonna mobile di pronta partenza saranno nelle aule mentre abbiamo attivato anche la colonna mobile nazionale che come vedete alle mie spalle sta montando le tende esattamente una trentina di tende per dare ricovero di dormire sia agli studenti e sia la colonna mobile stessa poi domattina monteremo anche la parte del campo il tendone da 24 metri per 10 con tutta la cucina e il retro cucina come se fosse un campo esattamente completo è un gran lavoro specialmente fatto sott'acqua perché la realtà è questa però forse meglio così perché vediamo anche le difficoltà perché ci capita spesso come c'era capitato già in Romagna di lavorare sotto l'acqua e l'acqua non acqua il risultato deve essere certo quante sono le unità che saranno oggetto di formazione e da dove vengono soprattutto da tutta Italia tutte le regioni ha mandato dei ragazzi dei ragazzi nuovi dei formatori qualcuno fa parte della colonna mobile alcuni vengono per a prendere in aula alcuni sono formatori quindi saremo circa 200 fiore all'occhiello della fira sono anche le telecomunicazioni elemento strategico in ogni catastrofico evento in cui le comunicazioni convenzionali crollano e i soccorsi devono essere coordinati allora le telecomunicazioni l'abbiamo visto in tanti scenari purtroppo poco piacevoli ma di crisi e sono importantissime perché è la prima cosa che si impianta e dal di lì parte tutto l'iter e insomma i soccorsi arrivano anche grazie a questo quindi svolgete un ruolo direi basilare nella catena dei soccorsi sì io analizzavo proprio con i miei collaboratori in questi giorni un fatto prima parliamo di 10 o 15 anni fa le comunicazioni erano assolutamente importanti perché erano scarse cioè c'era il telefono la cabina telefonica e poi dopo c'erano qualche radiomatore qualche situazione un po' particolare per cui eravamo assolutamente importanti oggi abbiamo una situazione di ridondanza tutti possono fare comunicazione Facebook poi dopo c'è il problema di Zuckerberg che si impianta il dramma di mia moglie e di mia figlia che mi chiamano con l'affonia mi dicono qui non va più niente come se fosse un dramma madonna adesso il mondo per cui siamo in una situazione in cui siamo talmente abituati abbiamo una ridondanza di comunicazione siamo talmente abituati che quando queste crollano è quasi peggio di prima perché prima sapevamo che c'era quella cabina telefonica e si poteva comunicare solo lì facevamo la fila però ci arriviamo adesso siamo tutti abituati ad avere lo smartphone in tasca e di potere tutte le immagini e comunicazioni quando però c'è il terremoto tutti questi sistemi terremoto l'uvione quant'altro questi sistemi saltano ed è un dramma perché eravamo abituati troppo bene per cui non lo so fino a che punto noi siamo sempre sul campo prima perché mancavano adesso perché sono ridondanti i sistemi di comunicazione e siamo ora allo sport capriamo con il calcio e le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie C che si disputerà integralmente sabato pomeriggio considerando poi il turno infrasettimanale di martedì ad aprire alle 14 sarà la Vispesero che al Benelli ospiterà il Cesena nel match affidato alla direzione di Moriconi di Roma alle 17.30 l'Ancona Matelica tornerà al Delconero per affrontare l'Aquila Montevarchi con arbitro Tremolada di Monza alla stessa ora durissima trasferta per la fermana Pescara contro il Delfino che nel posticipo di ieri ha pareggiato 2-2 a Chiavari l'incontro sarà diretto da Federico Longo di Paola e parliamo ora della quarta edizione della Coppa Faro di Automobilismo che si è disputata nel weekend a Pesaro nonostante fredde e maltempo una manifestazione pienamente riuscita sentiamo Camilla Cataldo Alla quarta Coppa Faro di Pesaro si è concluso il campionato italiano velocità salita autostoriche 2021 la gara ha anche emesso gli ultimi verdetti tricolori sui 3.800 metri della strada panoramica San Bartolo in condizioni di meteo incerto su un asfalto umido e freddo ma sempre in una cornice suggestiva ed emozionante ha vinto Filippo Calicetti su Osella il pilota della Bologna squadra corse si è imposto in entrambe le manche di gara grazie a delle regolazioni efficaci anche nelle più impegnative condizioni che hanno permesso all'emiliano neocampione italiano per la seconda volta di aggiungere la gara marchigiana al suo palmarès sulla provinciale 44 non è mancato lo spettacolo nella competizione organizzata da una scuderia di Todi e la collaborazione dell'ACI Cesaro Urbino d'altronde eravamo nel cuore della terra dei piloti e dei motori è mancato però il grosso del pubblico frenato dalla pioggia intermittente dal clima autunnale e dal forte vento si tratta comunque di una manifestazione tra le più prestigiose nel suo ambito a livello nazionale sentiamo il vincitore ai nostri microfoni sono veramente soddisfatto è stata una bella gara ieri abbiamo messo la macchina a terra per la prima mancina di prova e già andava molto bene i tempi l'hanno dimostrato seconda manche di prova purtroppo non siamo arrivati in cima abbiamo rotto un semiasse questa notte l'abbiamo cambiati entrambi eravamo convinti di avere possibilità di fare bene insomma oggi già in gara 1 abbiamo fatto un bel tempo in gara 2 direi che abbiamo fatto un super tempo quindi sono stra soddisfatto Ancora calcio con le gare di Coppa Marche di Eccellenza in programma domani come noto le squadre iscritte al massimo campionato regionale sono state divise in sei gruppi quasi tutti composti da tre compagini tranne il girone 6 con solo Atletico Ascoli ed Atletico Azzurra Colli che hanno già terminato gli scontri scendendo già in campo per due giornate in programma domani quindi Urbani a Gallo Grottamare Servigliano e Fabriano Cerreto Iesina alle 15.30 Fossombrone Vigor Senigalli e Montefano Valdichienti Ponte alle 18.30 e vediamo ora le previsioni meteo per mercoledì 13 ottobre Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì molto interessante da un punto di vista meteorologico la presenza infatti di questa zona di alta pressione sull'Europa centro-settentrionale convoglia aria fredda dalle alte latitudini verso l'est Europa ma poi queste correnti di aria fredda si infilano anche verso l'Italia portando quindi un nuovo peggioramento del tempo sul medio adriatico e al sud controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese ecco nuove nuvole che transitano appunto sull'Italia regioni del medio adriatico inizialmente ma poi si spostano verso le regioni meridionali e tutto accompagnato anche da un nuovo rinforzo dei venti e come precipitazione tornano delle acquazioni dei piovaschi dapprima sulle regioni del medio adriatico in trasferimento comunque poi rapidamente anche verso il sud Italia e poi vi segnalo qualche nevicata sulle Alpi di confine ma più che altro lato estero quindi in definitiva ci attende un mercoledì che al nord regalerà a ampie zone di sereno diciamo solo qualche annuvolamento sulle Alpi di confine anche sul versante tirrenico situazione buona medio alto tirreno invece regioni del medio adriatico e il sud con il ritorno di nuvole acquazzoni e anche qualche temporale nelle regioni meridionali non mancherà pure qualche fiocco di neve sull'appennino centrale ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo e chiudiamo con alcuni appuntamenti sportivi sul canale 11 della nostra emittente stasera alle 21 l'ampia sintesi del match di serie 1 femminile di pallavolo tra Imoco Conegliane e Megabox Vallefogli a seguire alle 22 la telecronaca per la terza giornata del campionato di serie A di basket tra Fortitudo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro è tutto grazie per la cortesa attenzione appuntamento a domani Grazie a tutti